Lo sbrogliamente è anche su Telegram, cercalo per conoscere in anticipo gli argomenti dei prossimi video e tenerti aggiornato su tutte le attività. Ciao, sono Teresa Montesarchio ed oggi con lo sbrogliamente parliamo della sindrome della vibrazione fantasma. Per sindrome della vibrazione fantasma si intende quel fenomeno per cui si pensa, erroneamente, che il proprio cellulare stia vibrando in tasca, per l'arrivo di telefonate, email o messaggi, quando invece non è così. Si tratta di una vera e propria dispercezione. Questo accade alle persone che hanno l'abitudine di portare il telefono in tasca, cosicché finisce per diventare parte del proprio corpo, similmente a come avviene per gli occhiali, ai quali ad un certo punto non si fa più caso. Uno studio condotto alla George Institute of Technology ha stimato che 9 persone su 10 ne sono affette. Queste confondono piccoli e frequenti spasmi muscolari con le vibrazioni del cellulare. Poche persone sono disturbate in maniera consistente da questo fenomeno, mostrando un adattamento del proprio corpo ai cambiamenti richiesti dai social media. E a te capita di esperire la sindrome della vibrazione fantasma? Se ti va, fammelo sapere nei commenti. Io sono Teresa Montesarchio e questo è lo sbrogliamente, e se vuoi saperne di più su Mente e Cervello, metti mi piace alla pagina Facebook e cerca lo sbrogliamente su Telegram. Ciao!